Oggi il commissario straordinario per il debito del comune di Roma, la Silvia Scozzese, è venuta in commissione bilancio grazie al fatto che il Movimento 5 Stelle sta chiedendo chiarezza e trasparenza sui 15 miliardi di euro di debito circa che i partiti ci lasciano sulle spalle. Lì erano presenti in commissione bilancio i candidati sindaci, la Meloni, Giochetti, Fassina perché ricordiamolo loro hanno dei comodi posti in Parlamento ero presente io perché sono diputata ovviamente con il Movimento 5 Stelle e noi non usiamo candidarci a sindaco magari e contemporaneamente scaldare una poltrona in Parlamento, evidentemente tutti quanti altri partiti usano fare questo. Questi 15 miliardi di euro ci costano circa 500 milioni all'anno fino al 2048 che sono ripartiti 300 milioni a carico dello Stato italiano e 200 milioni a carico dei cittadini romani. Allora lei cosa ha detto? La prima cosa ammette candidamente che di questa somma circa 1 miliardo e 400 milioni di euro è in capo a creditori di cui non si sa bene l'origine, non si conosce il nome. Quindi primo dato assurdo, 43% dei debiti commerciali. Incalzata da noi la scozzese ha poi detto che si poteva fare meglio anche per quello che riguarda la gestione finanziaria. Cioè il precedente commissario Varazzani è andato presso gli istituti di credito e si è fatto scontare, cioè anticipare una parte dei soldi che poi lo Stato italiano e i cittadini romani dovranno dare col sangue in 40 anni. Si poteva fare meglio, questo significa che probabilmente noi avremmo potuto risparmiare circa 2 miliardi di euro che finora ci sono costati gli oneri finanziari proprio a virtù di questo anticipo. Un altro punto fondamentale è stato quello dei contratti derivati. Anche qui noi vorremmo avere i contratti, vorremmo sapere tutto quello che riguarda queste trattative e lei è anche qui stata molto vaga, ha detto che non ce li ha disponibili neanche lei. Allora io mi domando, noi per chiedere trasparenza, a chi ci dobbiamo rivolgere. Ultimo punto molto importante riguarda circa 1 miliardo e 400 milioni di euro, badate qui si sta parlando di miliardi, di un titolo che si chiama il Colosseum Bond, che dovrà essere chiuso nel 2048. A fronte di questo titolo di 1 miliardo e 400 milioni di euro, noi dovremmo essere garantiti da un accantonamento. Se dobbiamo dare dei soldi ad un certo punto, dobbiamo sapere dove prenderli. Anche qui lei ha candidamente ammesso che a fronte di questo enorme sborso non c'è nessun accantonamento. Insomma tutti i nostri dubbi vengono confermati. Chiediamo ai cittadini di darci una chance, metteremo mano a questa vicenda e ripristineremo la legalità e la trasparenza.